Saluto tutti, grazie di avermi invitata e sono veramente molto molto felice di essere sulla terra dove è nata Maria Teresa di Lascia una grande, grandissima donna che io vorrei che ancora viva qui in mezzo a voi e che anche i giovani la conoscano perché credo, non so quanto i giovanissimi possano conoscerla e so che ci sono degli scritti inediti e io spero veramente nel futuro che tutte queste cose vengano lette e rilette c'è un suo libro che ormai è esaurito che spero che possa essere rieditato questo sarebbe il massimo, io credo che questo è anche nel pensiero di Pier Giorgio, sono sicura